allora salve salve a tutti sono pc tutorial express e voglio cominciare un let's play in hardcore si prima avevo problemi con la connessione e poi ho risolto quindi posso fare questo tipo diciamo di let's play sto usando come texture pack la misa realistic 420 un attimo ecco si era bloccato un po' meglio se la tolgo la texture pack un attimo la torno e ritorno la tolgo e ritorno allora rieccomi ho tolto quella texture pack d'accordo prendiamo il legno che è la prima cosa che si fa questo primo video lo farò di circa 10 minuti dunque prendiamo il legno e vieni giù ok si ho la skin da zombie pigman ma non ci fate caso banco da lavoro anzi noi inizio a fare con che ecco qua bastoni faccio subito un piccone altri bastoncini vabbè senza che lo tolgo non sto scavando una casa è che ho bisogno della pietra voglio farmi subito degli strumenti di pietra perché questo qua è un mondo in estrema e in hardcore insomma e con gli strumenti in pietra si va più velocemente e quindi usiamo gli strumenti in pietra farò un video non così raramente come negli ultimi giorni va bene prendo 20 pezzi e non così raramente come negli ultimi giorni ne farò molti di più nei ultimi giorni ma comunque non potrò farne moltissimi ok facciamoci faccioci un piccone di pietra poi poi una spada indispensabile in hardcore e una pala e lascia per abbattere subito gli alberi però adesso che ci sono mi faccio anche una pala d'accordo abbattiamo gli alberi il sole là in cima ma ma comunque è possibile che farò entrare in lan qualcuno vabbè dopo lo finisco di abbattere quell'albero è possibile che farò entrare qualcuno in lan ma non in questo episodio ora sono solo dunque vorrei cercare ecco eccolo qua vorrei cercare di oh non mi piace molto questa montagna ok me la faccio qui da casa si direi che qui va bene però prima lì avevo visto del carbone e mi piace questo fatto perché ci serviranno delle torce ok carbone solo due pezzi di carbone ma non fa niente iniziamo a farci le torce ok mettiamo giù il banco da lavoro mi faccio una porta la metto da fuori così le frecce degli scheletri non la trapassano e per sentirmi a mio agio mi prendo una torta oieh una torcia perché dico sempre torta vabbè voglio essere serio per questi video quindi quindi ragazzi gli aiaia non mi piace questo fatto dunque allarghiamoci la casa magari taglio il video mentre allargo si forse è meglio ok ho allargato un bel po' ma giusto per restarci dentro ora vorrei prendere prima che si faccia buio della lana ma io non vedo molte pecore anzi non vedo proprio pecore peccato vabbè non voglio perdermi perché è di mio solito solo che moriremo di fame beh abbattiamo quest'altro albero ecco qua abbattiamo questi due questo albero vabbè direi che basta così andiamo a casa e si sto morendo di fame uffa mi serve una mela almeno una mela dai almeno una mela niente vero solo che non rischierò molto l'ho detto prima ma un po' piano piano rischierò d'accordo mi sto sto già morendo di fame e direi che da questo video è tutto per ora eh sì è perché è vero che ho risolto un po' di problemi con la connessione ma non tutti quindi adesso direi che allargo un po' nel prossimo video troverete un po' la casa un po' più allargata ma più allargata ma pollo un pollo ho sentito un pollo un pollo un pollo dove è? si lo sento ancora dove è? dove sei? eccolo eccolo non morirò di fame non è? sì ora entriamo a casa però che sta facendo un po' buio anche troppo buio oppure ho lasciato la porta aperta vabbè mi faccio una fornace che è l'ultima cosa che faccio per questo video un attimo però quest'angolo è un po' troppo ecco mi faccio una fornace è l'ultima cosa che faccio per questo video e metto a cuocere un pochino il pollo e da questo video da qui è tutto ciao alla prossima